Siamo con il fisico Guido Tonelli al T. Hotel di Cagliari per la conferenza organizzata da Sardegna Ricerche. Ne approfittiamo per fargli una domanda per il blog Linguaggio Macchia. Qual è il futuro della fisica? Dove ancora si deve andare ad esplorare all'interno della materia? Cosa manca ancora? Uso riassumere la situazione generale dicendo che la nostra ignoranza è immensa. Nonostante i progressi che abbiamo fatto negli ultimi decenni e in particolare negli ultimi anni, le domande che ancora cercano una risposta sono enormi. La materia oscura, l'energia oscura, l'origine di questi grandi misteri, il 94% della materia dell'universo è sconosciuta. L'unificazione delle interazioni fondamentali, dove è finita tutta l'antimateria che originariamente doveva essere prodotta. Tutte queste sono questioni su cui io penso avremo bisogno di una nuova generazione di giovani studiosi, di scienziati, che prenderanno un po' il bastone che noi abbiamo portato fin qui, il testimone, e cercheranno di trovare una soluzione a questi problemi. Grazie.